Stimati spettatori, gli avvenimenti su questa terra si accavallano e si dovrebbe parlare di tante cose, ma da tante persone si sente sempre di nuovo che non hanno il tempo di interessarsi per tutto. Per dare comunque una possibilità alla nostra società stressata di potersi informare con notizie non censurate, la TV del muro del pianto dei mass media si è fatta venire in mente qualcosa di nuovo. Oggi iniziamo per voi la serie di trasmissione unica in tutto il mondo, puntualizzato in un minuto. Nelle trasmissioni di questa nuova serie si portano al punto tutti i fatti in modo conciso, come detto, in un minuto. Certamente non cessiamo con le altre trasmissioni e i commenti mediatici. Ora rimanga sintonizzato e i miei colleghi le portano dei fatti sulle armi di distruzione di massa di Israele, sulla politica familiare slovacca e sull'Eurovision Song Contest di quest'anno, appunto in un minuto. Chi vorrebbe approfondire lo stesso il tema può ricorrere alle fonti citate alla fine delle trasmissioni. Intanto vi saluto e vi auguro una serata informativa.